Mi sembra che il dipartamento non si tratta di capo 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 di capo. Mi sembra di capo 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 di e ci sia per protegeremo, quindi mi spero che questa discussione anche aiuta per conoscenziare un e tu che che c'è una certa base legale, ora si tratta con la placa. Il tempo che mi ho lavorato come pastore, sempre mi ho trovato con il mio collega, non è un pastore, non ha contato la placa di collega, ma sempre bisogna fare più rende, con quattro uo, per lo meno, con il conto con il cubo, di due, sempre mi ho consiglio per non messi un buono, non per la disconfianza, la forma un'comissione finanziaria, la gananza del handle e la placa di collega nel banco, per sobra se viene qualche accusazione, se mi ho testato e la cultura che sta nel luogo, se mi ho trovato con il luogo, non ti ha nulla di temere, di temere, di temere, di acusazione. Penso che non è tempo che mi ho dovuto fare una messa un buono gioco per cumplire una certa regla, ora mi ho trattato con la placa di collega, con la comunità, e se mi ho dato conto con la placa di collega.